L'associazione regionale ricercatori area medica della Campania Parma Med Onlus, composta da ricercatori universitari provenienti dagli atenei scientifici della Campania, ha svolto questa mattina una conferenza stampa presso la sala conferenza del comune di Battipaglia per attività di orientamento universitario inerenti ai corsi di laurea delle facoltà a numero programmato nazionale dell'area medico-sanitaria. Tante sono le persone che chiedono come accedere alla facoltà di medicina, una facoltà numero chiuso, tantissime come abbiamo ascoltato sono le richieste sul territorio nazionale e tantissimi purtroppo sono i giovani che dopo la scuola superiore non riescono ad accedere alla facoltà di medicina. Da qui l'interesse anche del comune perché ha patrocinato appunto il comune insieme alla regione Campania l'iniziativa di questi giovani ricercatori che hanno scelto Battipaglia come punto appunto di formazione, di informazione. È un progetto che partirà ovviamente da settembre perché già tanti sono i ragazzi che hanno partecipato ai concorsi nelle università private e poi ci saranno i concorsi nelle università pubbliche da settembre e quindi loro cominceranno su questo territorio. Noi li ringraziamo soprattutto perché hanno scelto Battipaglia come sede principale della provincia di Salerno e per allargarsi perché no come hanno detto loro sulla regione Campania con tanti professionisti che appunto possono accompagnare questi ragazzi senza dispendio economico perché sono progetti finanziati con PON regionali e PON nazionali e quindi pagare esclusivamente quello che è il bollettino per l'università quindi per accedere a fare il concorso di medicina senza altro dispendio economico di qualche migliaia di euro come è ben noto. Quindi è un'informazione, è un aiuto che il Comune dà affiancato appunto ripeto alla regione Campania al Ministero di Natura Sociale per i tanti giovani e ci sono passato anche io permettetemi l'ansia di quel concorso di cui i quiz se si riescono a superare o che cosa bisogna fare.